Ciao bambini! Vi racconto una piccola filastrocca da raccontare il giorno di Natale. Dolce è Natale, dolce è Gesù, dolce è la neve che scende giù, dolce è la mamma ed il papà e tutti quelli che sono qua. Oggi è Natale e siamo tutti contenti. Auguri e bacetti a tutti i presenti. Ciao ciao! Imparatela bene bambini! Ciao!